Ciao love, ciao belli, ciao belle, ciao Allora, vi voglio parlare un attimo di una cosa molto veloce in questo video Scusatemi, allora il video è serio e ci tengo Però mi voglio ridare il rossetto perché questo mi si è spento Allora, vorrei parlarvi di un argomento a cui io, come sapete, ci tengo tantissimo Una ragazza di voi mi ha fatto questa osservazione Quindi io ci tengo particolarmente a parlarvene Visto che se per una cosa così posso dare una mano nel mio piccolo Lo faccio più che volentieri Allora, una ragazza mi ha segnalato che qui su Youtube c'è un canale che si chiama Leonin Ho guardato la luce e non ci vedo una mazza Leonin ed è un canale che una ragazza che lavora in un canile ha aperto In questo canale trovate tutti i cucciolini che sono in questo canile Dove loro vi fanno un piccolo video di questi batuffoli Per l'appunto stamattina sono arrivati due maremmanini E non so se sono due maremmanini Però un maschio e una femmina Anzi le Gretel Piccolini bianchi, la mimma che si nascondeva dietro il bimbo Cioè voi non avete idea cosa non sono E la ragazza è molto carina perché dice che prima erano 800 queste anime sante Queste anime libere erano libere, queste anime buone, queste anime pure Erano 800 Mentre adesso grazie a internet sono riusciti a dare stallo a queste bestioline per tutta Italia Infatti internet se venisse usato per le cose giuste Internet è una delle cose migliori che l'uomo ha fatto Non capisco perché ho due minuti e venti di tempo Questa cosa mi farebbe veramente incazzare Quindi poi a caso non l'ho riattivo E niente cucciole Lei non vi può rispondere ai commenti sotto ai video Quindi se siete interessati a qualche cucciolotto In fondo ad ogni video vi appare la mail della ragazza Io vi metterò comunque nell'info box la mail di lei Io perdono la ragazza ma non mi ricordo lei come si chiama Perché non c'era più spazio Non mi ricordo lei come si chiama però ecco Non vi può rispondere sotto ai video Però se qualcuna di voi è comunque interessata a questi cuccioli In fondo ad ogni video c'è la sua mail E lei vi risponderà tramite mail Ragazzi vi prego cerchiamo di Come si dice cerchiamo di Far sì che le persone capiscano quanto è importante E quanto i cani non sono oggetti L'ho letto un'altra serie e questi due sono separati E questi cani li hanno rimessi in canire Cioè veramente a me stessi fanno impazzire I cani non sono pacchi postali I cani sono creature vive I cani hanno dei sentimenti Anche se non dimostrano a parole come noi Per favore il cane non vi chiede di essere preso Io vi prego se prendete queste creaturine Non le trattate come oggetti Vogliateli bene perché loro vi dimostreranno Un affetto incondizionato e un essere umano Non vi darà mai E per favore cerchiamo di portare rispetto A tutte le creature che sono al mondo Qualcuno mi ha detto Cami diventa vegetariana Io per adesso No, non diventerò vegetariana Perché comunque abbiamo 32 denti Allora non facciamo adesso una polemica Sul vegetariano e il vegano Perché il video non è questo Però io non voglio per adesso essere vegetariana Cerco tutti i prodotti Comunque uova allevate a terra Galline che non siano di batteria Animali allevati a terra O comunque hanno fatto una certa vita Il babbo va a caccia E comunque gli amici vanno a caccia Se compra della carne di un certo tipo Quindi per adesso io non me la sento Chissà più qua vedremo Però portiamo rispetto a tutte le creature viventi Vi prego Non dobbiamo essere Non dobbiamo avere questi paraocchi Cioè per favore Chi vede un cane Una ragazza maschetta Guarda ho visto un cane Che fa un tolfo da una macchina Cioè vi prego aiutatelo Cioè vedete un animalino Un pena Un animale che ha bisogno di aiuto Vi prego con tutta l'anima Dategli una mano Perché animali Specialmente Il gatto è molto diverso Il gatto è felino Il gatto riesce comunque a vivere benissimo Senza l'affetto di una persona Il cane ci vive Ma è molto diverso Quindi se potete vi prego Diamogli una mano E niente Io vi lascio comunque Nell'info box Il sito Il canale di questo canile Quindi per favore Facciamo girare la cosa Se qualche amico vuole un cane Ragazzi non comprate i cani Dall'allevamento Vi prego In canile c'è tanti cani Che comunque se li volete di razza Che hanno bisogno Sterilizziamo i cani Non facciamo fare tutte queste cucciolate Inutili Perché la gente vuole vendere i cani Avete un maschio e una femmina Sterilizzateli Perché più cucciolate ci sono E più animali ci sono E questo non va bene Perché purtroppo non tutti Hanno il cuore di tenere un animale In un certo modo Quindi io ve ne prego Ve ne prego Cerchiamo di educare Educhiamo Con questo vi saluto Spero di Aver fatto qualcosa Un minimo di Che sia d'aiuto a qualcuno Io vi mando Un grande bacio E ringrazio Tutte queste creature sante Che aiutano questi cuccioli In questi canili Avete un cuore enorme E vi giuro che Verrete ripagate La vita è una ruota Che gira prima o poi Ognuno avrà quello Che si merda Verrete ripagate di tutto E chi invece Fa la merda Vedrete che prima o poi Tutto torna indietro Quindi Vi lascio tutto nell'info box Ringrazio la ragazza Che mi ha postato Il canale E ringrazio il canile Leonin E specialmente Le volontarie Che ci lavorano Io vi mando un bacio Buonanotte Oggi è sabato Fate un buon fine settimana Stasera fate i bravi Visto che noi ce ne andiamo a letto Vi mando un bacio Fate i bravi Vi love I love dog Ciao Grazie a tutti